Portare la questione del petrolchimico di Gela al tavolo del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Questa la richiesta a gran voce del coordinamento per la difesa della raffineria di Gela, nato venerdì sera alla fine del Consiglio Comunale straordinario indetto per discutere della vertenza Eni e composto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Aggiunta e del Consiglio Comunale. Coordinamento che intende portare avanti la battaglia per difendere il futuro dell'industria nel territorio della città del Golfo e il rispetto da parte dell'Eni del piano sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni che prevedeva 700 milioni di euro di investimenti al riavvio della linea 1, oltre che l'utilizzo delle aree dismesse e bonificate da assegnare per nuove iniziative imprenditoriali, così come previsto dal protocollo del luglio 2012. Due le iniziative annunciate dal coordinamento per rivendicare una raffineria in grado di rispettare l'ambiente, stare sul mercato nel medio e lungo periodo e tutelare le migliaia di posti di lavoro a rischio. La prima prevista per oggi, mercoledì 16 luglio, con un Consiglio Comunale straordinario da parte di tutti i comuni del comprensorio che si sono dati appuntamento davanti i cancelli del Green Stream. Il metanodotto Libia-Italia, che serve di gas la penisola e l'Europa, e di cui legni è proprietario al 75%. Una scelta non casuale, quella della location da parte del coordinamento. Infatti nel 2013 per ben due volte i rivoluzionari in Libia e i suoi movimenti politici hanno causato l'interruzione del gasdotto Green Stream, costringendo i vertici di allora dell'Eni a intervenire di concerto con il governo italiano. Governo oggi chiamato in causa per difendere il lavoro, lo sviluppo e l'industria produttiva ecocompatibile. All'appuntamento saranno presenti i consigli comunali di Gela, Butera, Niscemi, Mazzarino, Sommatino, Vittoria, Cate e Priolo, oltre la deputazione. Mentre giovedì 17 luglio si terrà una giornata di preghiera preceduta da una veglia con digiuno indetta dal Vescovo della Diocesi, Monsignor Rosario Gisana, che ha inviato in questi giorni una lettera che è stata letta in tutte le celebrazioni eucaristiche delle chiese della Diocesi.